ok buongiorno ragazzi oggi parliamo di funnel marketing per coloro che operano nel settore delle rendite automatiche e lo facciamo in compagnia di Ivan Cervellini Ivan benvenuto in questa intervista grazie Michele allora velocissimi Ivan opera appunto come dicevo nel settore delle rendite automatiche ora ci racconterà la sua storia così ci racconta esattamente che cosa fai e eventualmente qual è l'impatto che hai avuto con il funnel marketing per i risultati che ci racconterai a te la parola benissimo grazie Michele e grazie di questa grandissima opportunità beh io sono Ivan Cervellini mi presento prima di tutto ho 49 anni e ho sempre fatto l'imprenditore questo lo posso dire tranquillamente però diciamo da 4 anni a questa parte le cose sono un po' cambiate perché ho capito che bisognava fare qualcosa di diverso e in particolare mi sono appunto rivolto a questo settore delle rendite automatiche ricorrenti sia nel settore immobiliare che è stato che è il mio primo amore diciamo sia anche in altri settori e in particolare nel 2016 ho fondato Olivo Vita Team che è un gruppo di persone che tramite appunto le tecnologie innovative come quella di internet eccetera danno la possibilità alle persone di crearsi delle rendite appunto al di fuori di quello che è il normale stipendio con che obiettivo? Con l'obiettivo proprio di slegare le persone da questo connubio tempo per denaro che quindi ci lega tutti diciamo a queste 10, 8, 10, 12 ore al giorno e poi non sappiamo più come fare per magari aumentare i nostri introiti e il nostro benessere quindi l'idea è proprio quella di portare alle persone il benessere fisico e il benessere economico quindi dal 2017 siamo proprio partiti in bomba su questa cosa qui adesso questo gruppo conta circa 400 incaricati e più di 1500 clienti quindi in due anni mi sembra che abbiamo fatto un gran buon lavoro alla grande, bravissimo Ivan, complimenti e questo è proprio il ragionamento credo che sia la base dell'imprenditore cioè di focalizzarsi su tutte quelle rendite automatiche che si possono generare appunto come dicevi tu slegando il proprio tempo anche perché l'imprenditore dovrebbe essere proprio questo cioè dovrebbe teoricamente far lavorare i manager e poi i tecnici rispetto che la propria persona in realtà in Italia molto spesso l'imprenditore è colui che proprio mette le mani in pasta e non è sempre una cosa molto corretta allora Ivan, passiamo un po' al marketing che ti permette di promuovere la tua attività prima di impattare al funnel marketing o perlomeno come sei arrivato al funnel marketing e quali erano le difficoltà che avevi prima? Beh, guarda, in questi quattro anni sinceramente mi sono buttato in questo mercato studiando, cercando delle soluzioni proprio perché ho sempre creduto che internet e tutto ciò che era l'info marketing fosse stata il futuro no, anzi, è il futuro a tutti gli effetti però la difficoltà era proprio quella di trovare un percorso che si adattasse alla mia idea di management alla mia idea di sviluppo di queste attività e sinceramente ho passato parecchi formatori, parecchi corsi ho investito parecchio tempo e tanto denaro finché poi nel 2017 sinceramente sono arrivato a una soluzione molto interessante che è quella appunto dei funnel ma Ivan, prima questo penso sia un punto chiaro perché in tanti mi hanno detto che tanti giustamente fanno corsi e io sono un promotore di questo io per primo faccio tanti corsi però molto spesso alla fine manca un po' la parte pratica cioè ok ho imparato, imparato ma poi non riesco a fare qual era il problema che avevi nel fare tanti corsi però poi in realtà non mettere in pratica il lancio di una tua strategia bravissimo, è proprio questa la situazione nel senso che vai in overbooking di informazioni a un certo punto e non hai proprio quella situazione, quel filo logico di studio e messa in pratica cioè è mancato proprio a un certo punto sono arrivato al punto che mia moglie mi ha detto basta corsi, ferma tutto, mettiti a fare qualcosa quindi hai capito a che punto siamo arrivati già veramente incredibili da questo punto di vista qui e lo posso dire tranquillamente che il tuo aiuto non è venuto né a caso a settembre dell'anno scorso né tantomeno è stato poco importante anzi è stato molto importante per mettersi a lavorare grazie, grazie, grazie ok, vediamo adesso i risultati quindi a questo punto che hai ottenuto attraverso il mondo funnel marketing certo allora in questo momento qui ho creato delle landing ho creato dei post, delle situazioni di valore per comunque apportare le persone verso le nostre soluzioni le nostre possibilità quindi l'idea è stata proprio quella di fare una selezione diciamo delle persone iniziali per capire chi ha le caratteristiche e chi vuole mettersi proprio in gioco su questo tipo di attività che chiaramente è un'attività che diventa imprenditoriale per quanto diciamo non si parla di mettere su la Fiat ma naturalmente sono piccole imprese micro imprese ma devi avere determinate caratteristiche in particolar modo la voglia di fare determinate cose noi naturalmente ci siamo specializzati a fare questo e a portare questo tipo di valore alle persone fantastico quindi diciamo così sei riuscito a comunicare meglio quello che volevi passare come messaggio sicuramente sì a livello strategico sei riuscito a creare una strategia chiara e definita certo abbiamo fatto proprio una scala di valori cioè come lo sai abbiamo partecipato al tuo bellissimo corso il bootcamp di fine novembre partito a fine novembre e lì proprio abbiamo approfondito questa cosa del posizionamento della scala dei valori e poi ci siamo messi a costruire questo funnel ci siamo tre giornate super intense ma ci siamo venuti fuori poi ci siamo venuti a casa con questo funnel test che è stato veramente un ottimo punto di partenza perché nel mese di dicembre fa conto che solo con il funnel test abbiamo portato a casa più di 300 email quindi è stato veramente un ottimo lavoro poi nel mese di dicembre le feste eccetera a gennaio ci siamo rimessi sul pezzo e abbiamo creato diciamo il funnel che adesso sta lavorando per selezionare appunto le persone che sono interessate a questo tipo di rendite automatiche fantastico adesso tra poco lo vediamo ecco una domanda ti va di condividere con noi un po' la strategia che stai adottando ora per appunto attirare a te le persone che chiaramente vogliono dimostrare interesse filtrandole evitando i perdi tempo per le persone interessate al tuo prodotto e servizio sì 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 allora beh semplicemente si crea traffico nei due canali principali di facebook e di youtube si portano all'interno di adesso come adesso abbiamo due lending che raccolgono appunto le persone interessate queste vanno su una pagina valore che le va a spiegare proprio di che cosa stiamo parlando come funziona il gioco io dico ok quale opportunità c'è all'interno di questa situazione e con questo poi la persona in maniera molto libera e tranquilla può fissarci fissare con noi con me con i miei top leader un colloquio di selezione chiamiamolo così dove gli spieghiamo le cose che magari non ha ancora capito e vediamo se questa persona può far parte diciamo delle nostre soluzioni fantastica qui dargli l'opportunità di entrare a far parte della vostra squadra ottimo grandioso allora adesso io andrei a vedere un pochettino i tuoi fatti così diamo un po' di concretezza a questi discorsi benissimo sicuramente sì ok ora vediamo i funnel di Ivan questo è diretto su chi è interessato all'opportunità di lavoro quindi ad attirare le persone che vogliono ovviamente crearsi una rendita alternativa senza cambiare la propria vita privata o attualmente il proprio lavoro chiaramente si entra qua si dà la mail e da qui si entra in quello che è il report delle informazioni e nei video sistema for you dall'altra parte c'è un'altra tipologia di entrata di big idea quindi di messaggio che è quella di attirarli invece attraverso il prodotto quindi 5 metodi su come usare l'olivo per migliorare pressione, colesterolo, glicemia non solo anche se ti costringono a ricorrere ai medicinali continuamente quindi ha un approccio completamente diverso la pagina valore invece è una pagina nella quale olivo vita team dove in pratica c'è subito un video di Ivan introduttivo in cui spiega in pochi minuti un po' il concetto e poi si inizia a dare informazioni differenziazioni si inizia a spiegare che cos'è il network marketing quali sono i passaggi come registrarsi eventualmente al nuovo network quindi una serie di informazioni dettagli l'azienda il come funziona e così via quindi tutta una serie di passaggi che permettono alle persone di capire se effettivamente è la soluzione che fa per essa e chiaramente poi una volta dimostrato una tipologia di interesse quindi essersi educati in modo autonomo a quel punto inizia la parte di contatto dove in pratica vi sono tutti i passaggi per accedere e registrarsi direttamente al contatto con Ivan ok abbiamo visto i funnel di Ivan in realtà Ivan ne sta per lanciare degli altri quindi in realtà questo è proprio il fatto di imparare metodi diversi su offerte diverse allora al di là del fatto che ci siamo messi d'accordo sulla tipologia di camicia da metterci questa mattina Ivan quindi ci siamo sembriamo proprio i Blues Brothers ma ti volevo fare una domanda perché secondo te da questa tua esperienza da tanti corsi che hai fatto dalla tua esperienza da imprenditore ed ora da creatore di un business per rendita automatica perché secondo te di questi tempi è diventato fondamentale avere un sistema di marketing basato sul funnel marketing è veramente come hai detto te una cosa fondamentale cioè io mi ricordo per il passato quando negli anni 2000 si parlava di sito internet come sito vetrina sito vetrina oggi io penso che negli ultimi 4-5 anni il sito non può rimanere un costo deve essere proprio un produttore di ricavi un produttore di vendite a tutti gli effetti il funnel è quel qualcosa che trasmette una sensazione che porta la persona come si suol dire dal punto A al punto B in maniera completamente naturale e li fa comprendere come la nostra impresa i nostri servizi eccetera gli possono essere utili in maniera naturale decide se comprare se andarsene che cosa fare però è è un qualcosa che fa proprio portare lead veri che fa portare vendite vere all'impresa a tutti gli effetti per cui è fondamentale questo tipo di approccio oggi perfetto Ivan ancora una volta grazie mille del tempo che ci hai dedicato delle tue condivisioni strategia funnel hai voluto aiutare coloro che sono un po' nel tuo settore grazie del tuo tempo in bocca al lupo per i tuoi funnel per i tuoi successi e niente ci vediamo sui prossimi canali Michele grazie a voi di tutto ricordo il mio dominio principale www.olivodellavita.it e sicuramente grazie a voi avremo modo di continuare sicuramente le nostre collaborazioni grazie ciao a tutti in bocca al lupo grazie Ivan grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.